Benvenuti alla puntata di oggi di Stampa Evangelo, come vedete le trasferte stanotte abbiamo fatto tardi a Pinerolo, teatro incontro, un bellissimo incontro di preavvio della campagna elettorale, sapete che entro le prossime 24 ore saranno ufficialmente declinate tutte le liste, pubblicate, approvate, vitimate e poi il primo, cioè domani, il primo febbraio, comincerà ufficialmente la campagna elettorale, noi abbiamo fatto una predata a Pinerolo ieri, molto bella, molto partecipata, sto in viaggio, quindi non ho voluto rinunciare a fare la puntata di Stampa Evangelo nonostante il viaggio, ci vedremo a Cremona il 2 per la vera e propria apertura della campagna elettorale, tutti quelli che vogliono e possano convergano su Cremona per l'iniziativa alle ore 21, anche qui in un bel teatro di una splendida città come Cremona e continuiamo a fare il giro d'Italia, incessante, di mattina, di sera, di notte e anche a dire alcune cose importanti, spero, per l'organizzazione della campagna elettorale. Francesca Centofanti del coordinamento elettorale che mi rimproverava perché sono in ritardo, effettivamente sono molto in ritardo, ma ci sono state moltissime cose da fare, non avete idea quanta fatica per fare proprio tutto. Patrizio Righiero mi ringrazia per il mio intervento a Pinerolo, sono io che ringrazio Patrizio per il suo splendido lavoro di intervistatore, anche Marco Margherita, sono stata una bella intervista, diciamoci la verità, spero anche con un qualche concetto che sia passato, c'è Roberto Mura, Vittoria Polacci, il nostro PDF toscano, la grande Eleonora Pagano, Eleonora Pagano aveva una maglietta di O capiamo moriamo che mi ha fatto innamorare, che bella, è la nostra candidata a Messina, c'è Flaminia Longobardi, c'è Mauro Turrini, c'è Alessandra Tumino, Carla Stefanini, Caterina Sani, Danilo Bassan, PDF Padova, Alessandro Iorio, il nostro capolista in quel di Cosenza, in quel di Calabria Camera, Angela Ciconte è Calabria Senato. Allora oggi mi vedete in primo piano, come dice bene Stefano, eccoci qua, questo primo piano fatelo girare magari, cosa bisogna fare? come sempre, un mi piace, un condividi alla diretta, anzi fatemi ringraziare ieri le 14.000 persone che hanno seguito la puntata di Stampa e Vangelo, pensate un po', 14.000 persone per una puntata di Stampa e Vangelo, questo grazie a voi, alle vostre condivisioni, alla vostra costanza nel segnalare la diretta ai vostri amici, allora facciamolo anche oggi perché il lavoro che dobbiamo fare è eccezionalmente faticoso e complesso, il tempo che abbiamo è poco e allora se noi riusciamo a far arrivare le dirette di Stampa e Vangelo a più persone possibili, le informazioni si diffondono più rapidamente. E allora, mi raccomando, Alessandra Mondelli, Michele, se sono uscito dal nebbione, sì adesso vedo profilarsi anche un pallido sole, diciamo così, c'era Emanuele Obue anche ieri, nostro candidato a Torino, ciao Emanuele, Massimiliano Fiorin è candidato a Bologna, ecco Rossano Giorello, proprio Rossano di Pinerolo che ha organizzato la serata, Lorenzo Colonna Predi che ci scrive addirittura dal Sudan, pensate un po' quante persone ci ascoltano davvero, allora vi chiedo, un profeta, scusate ho letto il passaggio del Vangelo di oggi, fatemelo leggere subito, un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Questo è il Marco di oggi, l'inizio del sesto capitolo di oggi, il Vangelo di oggi ci ricorda il nemo profeta in patria e come dico sempre, perché leggere il Vangelo tutte le mattine? Perché il Vangelo tutte le mattine ci consegna una straordinaria capacità di illuminare la nostra quotidianità e questa è la grandezza del Vangelo. Non c'è un libro che tu apri, scritto migliaia di anni fa, che ogni giorno è capace di illuminare la tua strada nel cammino quotidiano faticoso che bisogna compiere. Oggi il Vangelo di oggi col nemo profeta in patria è sicuramente un Vangelo molto evidente e capace di spiegare quello che stiamo facendo e anche di spiegarci perché abbiamo quelle difficoltà evidentemente che derivano da un'attenzione di fuoco amico molto pesante. Insomma c'è scritto nel Vangelo. Ancora una volta ci aiuta la parola, ci aiuta a far questo, a essere sempre saldi nella fede come abbiamo detto ieri con la pagina di Vangelo ieri e oggi a essere consapevoli che anche in patria, diciamo così, persino nelle mura amiche e familiari siamo destinati a non essere compresi. Davvero nessuno è profeta in patria, dice Corrado. Bene, allora cerchiamo di crescere con le condivisioni amici perché mi sembra che ne manchino parecchie. Avvertite ai vostri amici che c'è la diretta in corso perché devo dare delle informazioni importanti, tra l'altro derivanti dai giornali di oggi che avete sicuramente letto, io l'ho letta stanotte e dunque posso declinarvi alcune notizie molto importanti che è bene che le persone conoscano. Mandate nelle chat nostre operative, fate sapere a tutti che è in corso la diretta perché adesso dovremmo parlare di cose concrete, molto precise e importanti, credo. La prima cosa concreta, precisa e importante deriva dall'attualità di oggi. Come sapete ieri c'è stata l'apertura di Salvini sulle unioni gay, c'è stata una presa di posizione, va bene tutto, basta che non ci siano le adozioni, quindi un cambio di linea della Lega su questo argomento. C'è stato anche un intervento di Eugenia Roscella che dice che impegnerò per cancellare la legge Cirinna, piccolo problema, questo a proposito non è presente in alcun modo nel programma del centrodestra, anzi il centrodestra si è qualificato ieri per un ennesimo comportamento complice del centrosinistra, io ve lo spiego sempre. Dal 2011, quando io ero in Parlamento, il centrodestra e il centrosinistra votano tutti i provvedimenti chiave insieme, insieme, è un governo di larga intesa che dura dal 2011. Tutte le leggi fondamentali, comprese le leggi pessime contro la vita e contro la famiglia, ripeto, divorzio breve, solo 19 voti contrari su 630 alla Camera, sulle DAT solo 37 voti contrari su 630, tutte le leggi fondamentali, compresa la legge Cirinna, non sarebbero mai passate senza il decisivo supporto e alcune volte addirittura il totale supporto di tutti i gruppi politici alle proposte contro la vita del centrosinistra. Allora, volete non avere più il centrosinistra al governo? Questa è la domanda, mi sembra che sia una cosa giusta, è il motore delle peggiori proposte. Volete battere davvero il centrosinistra? C'è solo una strada, il voto al popolo della famiglia che rompe lo schema, altrimenti lo schema è sempre identico. Centrodestra e centrosinistra si votano le cose insieme, si coprono insieme. La storia ultima è oggi sui giornali. La commissione banche è presieduta da un esponente proveniente dal centrodestra, come si chiama Pierferdinando Casini, lo ricordate per decenni, alleato di Berlusconi, oggi alleato di Renzi, candidato a Bologna addirittura per i servigi resi a sua maestà Renzi e soprattutto la commissione ieri ha votato una relazione a maggioranza con 19 voti favorevoli e 15 contrari. Pensate un po', c'erano sei assenti, sei assenti, guardate un po', i sei assenti per evitare di fare andare in minoranza il Partito Democratico. Di più, di più, il senatore che più si è impegnato, che più si è impegnato a evidenziare le pecche di Maria Elena Boschi, oggi ricandidata in cinque collegi plurinominali blindati più un collegio uninominale blindato, tanto per farvi capire come funziona la politica, si chiama senatore Andrea Augello, è un senatore di Centrodestra che io conosco bene, molto stimabile, enormemente intelligente, enormemente competente, e già queste due cose non vanno molto bene nel Centrodestra evidentemente. Ebbene, il senatore Andrea Augello che ha fatto vedere i sorci verdi alla Maria Elena Boschi in commissione banche non è stato ricandidato, non è stato ricandidato. Prova provata, ennesima che il frutto avvelenato di queste elezioni, se non interverrà una novità determinante, questa novità determinante si chiama popolo e la famiglia, è il proseguio dell'inciucio centrodestra-centrosinistra. Se non volete più il centrosinistra al governo dovete batterlo facendo sì che il popolo e la famiglia sia alternativa, altrimenti le storie come Andrea Augello, da fastidio a Maria Elena Boschi, non ricandidato al centrodestra, pur essendo unanimemente riconosciuto come senatore di grandissima capacità, intelletto, competenza, vi fa spiegare come funziona la minestra. La minestra funziona esattamente così. Da una parte Salvini flerta col 5 Stelle, oggi sui giornali trovate l'ipotesi Lega più Movimento 5 Stelle. Dopo aver fatto lo sbraco sull'Unione Gay oggi abbiamo già la nuova maggioranza di governo, c'è una paginata su Repubblica che dice che Gianluigi Paragone, ex direttore della Padania, mio amico lo conosco bene, sono andato molto spesso nelle sue trasmissioni, adesso da candidato al Movimento 5 Stelle ha esplicitamente affermato che vorrebbe un governo Lega Movimento 5 Stelle, quindi da una parte la Lega punta a quel tipo di alleanza, dall'altra c'è l'inciucio eterno Berlusconi-Rensi, come dice Augusto Caratelli, basta inciuci, Italia libera, davvero liberiamo questo nostro paese, basta inciuci, basta centrosinistra al governo eternamente con i voti di supporto del centrodestra, basta, oddio mio, l'idea di una maggioranza Lega Movimento 5 Stelle con gli avaloriali grillini al governo con il buon Salvini che ormai ha aperto pure all'amore libero e quindi con l'approccio avaloriale si trova comodo. Noi siamo l'unica possibile alternativa, lo ripeto, l'unica possibile alternativa per questo veniamo silenziati oggi a pagina 9 di Avvenire, che bello finalmente Avvenire da spazio anche abbastanza considerevole al popolo della famiglia, è pubblicata una nostra denuncia all'Agicom perché in telegiornali e molti giornali viene completamente ignorata la presenza del popolo della famiglia. Questo è gravissimo e noi abbiamo segnalato questo in un esposto all'Agicom, per fortuna un giornale, solo il giornale dei Vescovi, gli ha dato ampio spazio pubblicandolo integralmente, lo trovate oggi a pagina 9 su Avvenire, dunque se volete leggere quello l'ho anche pubblicato su Facebook l'articolo di Avvenire. Noi ci difendiamo evidentemente, ma dobbiamo sapere che la partita è complicata perché? Perché se noi vinciamo questa partita salta il banco dell'alleanza centrodestra e centrosinistra, lo ripeto, che da sette anni governa incessantemente la cosa pubblica italiana e come si è visto in commissione banche, si danno. Oltre a darsi bordone l'un l'altro, avvertite Alberto Agus che sono in diretta, scrivete sulla chat operativa, Maria Di Nolfi è in diretta in questo momento su Stampe e Vangelo, non può rispondere alle telefonate, scrivetelo nella chat operativa per favore che sia utile per Alberto Agus e per tutti coloro che ogni due minuti pensano di potermi telefonare, abbiate pietà. Ho fatto un gioco con mia moglie l'altro giorno, ho messo il cellulare sul tavolo, ho detto guarda ogni otto secondi arriverà un messaggio whatsapp, una telefonata, un sms, qualcosa che chiederà un mio intervento. Non arriveremo mai a dieci secondi senza un blim e lo sappiate questo è faticosissimo, quindi se vi posso chiedere una cosa cercate di rallentare un attimo il livello di richieste che mi fate perché farlo tutto il giorno. Alberto ha ritelefonato, qualcuno per favore va nella chat operativa del pdf e scrive ad Alberto che sono in diretta a Stampe e Vangelo, per favore Guido, ecco vedo che è andato, allora digli a Alberto, scrivi Guido direttamente ad Alberto Agus e nella chat operativa che c'è la diretta in corso di Stampe e Vangelo. Allora ditelo a tutti, anche Danilo Leonardi ho visto non nella capita di regia, andate a scrivere nella chat operativa. Scusate questa parentesi, è arrivata anche a Stercorona, la saluto, noi ci vediamo a Roma con una bella iniziativa la mattina del 25 a casa di noi, vi dico subito che ci sono tante iniziative in giro per l'Italia, come detto si diparte dopo Pinerolo, si va a Cremona, si comincia da Cremona un bel viaggio che ci porterà ovviamente in tutte le regioni, si andrà anche subito dopo in Umbria, a Perugia, poi andiamo ad Imola, in Emilia Romagna, cercherò di essere presente in tutte le regioni e dunque andando in tutte le regioni cercheremo di costruire quel bel clima che si è costruito anche ieri a Pinerolo. Allora, dicevo, vi è chiaro il quadro, il quadro è un centrodestra che fa bordone al centosinistra, questo tipo di lavoro è incessantemente in attività dal 2011, se voi volete interrompere il centosinistra al governo, la stagione del centosinistra al governo, avete solo una possibilità, il voto al popolo della famiglia. Tanto è arrivato anche Nicola Di Matteo, Angelo De Santis, un abbraccio a tutti, Mauro Domenici che è il nostro candidato a Lucca. Allora, uniti al popolo il Femini Day si vince, beh certo se Simone Villon si candida con la Lega non ci uniremo con la Lega, ecco questo lo possiamo dire, non ci uniremo con quelli che dicono che bisogna legalizzare la prostituzione, ho già letto che Simone Villon si è detto d'accordo con la Lega su questo punto, quindi quello che doveva contaminare alla seconda ora di gioco era già rimasto contaminato, quindi quel tipo di modello non ci piace. Ovviamente mi aspetto, l'ho scritto e lo ripeto, da Massimo Gandolfini che immagino voglia indicare Simone Villon tra quelli da votare, che si ricordi che Nicola Di Matteo, Gianfranco Amato e anche Maria Di Nolfi, sottoscritto, erano sul palco del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, davanti a voi il Giorno delle Femini Day, ci aspettiamo che se evidentemente vuole indicare Villon da votare nella Lega, non dimentichi di indicare gli altri amici del Comitato Difendiamo i Nostri Figli che sono candidati alle elezioni, perché altrimenti ci troveremmo davanti a un comitato per l'elezione di Simone Villon in Parlamento, il Comitato di Scopo avrebbe raggiunto l'obiettivo e si potrebbe anche sciogliere, caro Massimo Gandolfini. Mi aspetto una normale e ovvia indicazione di voto per tutti coloro che sono stati compagni di strada in quella straordinaria esperienza. Se ci fosse solo per la Lega sarebbe davvero incomprensibile, anche perché se non sbaglio Villon è finito dietro la Giulia Buongiorno nella lista leghista, quindi sapete che la Giulia Buongiorno è rappresentante di chi inneggia alla legge Cirinna, di chi vuole la legge Scalfarotto, di chi vuole mandarci in galera, allora indicare quel tipo di voto vorrebbe dire indicare e votare Giulia Buongiorno, lo troverei abbastanza contraddittorio. Se poi questo fosse condito addirittura con un'assenza di indicazioni di voto al popolo e alla famiglia, in odo al popolo e alla famiglia ci ritroveremmo davanti a un comitato che può davvero sciogliersi perché sarebbe stato chiaro ormai che è un comitato di scopo per l'elezione di Villon. E allora raggiunto l'obiettivo i comitati di scopo si sciolgono. Quindi noi cerchiamo adesso di fare quello che dobbiamo fare, raccogliere più voti possibili, più voti possibili per il popolo della famiglia, bisogna farlo tecnicamente, la campagna elettorale è una questione tecnica, come si fa a raccogliere voti? Ricordatevi, noi adesso abbiamo fatto l'impresa delle firme, c'è una difficoltà evidente di aver fatto le firme, l'abbiamo superata e quindi adesso abbiamo quella che si è una sindrome di appagamento e noi dobbiamo superare subito la sindrome di appagamento. Pina Moretti chiede vorrei tesserarmi, per tesserarsi e sostenerci anche magari leggendo La Croce perché oggi c'è un altro bellissimo numero del Quotidiano La Croce con l'editoriale di Gianfranco Amato, da non perdere l'appello al voto di Gianfranco Amato, si va sul marketplace www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e trovate tutte le modalità sia di tesseramento al popolo della famiglia sia di abbonamento al Quotidiano La Croce, molto utile, lo ripeto, anche per leggere gli editoriali, oggi l'editoriale è firmato da Gianfranco Amato, ecco Alberto Agus che è arrivato adesso in diretta, lo saluto con affetto, ha messe tutte le liste, era per questo che mi chiamava, bravissimo Alberto, una grandissima capacità, abbiamo tutti in mano ormai i decreti di ammissione, quindi entro oggi dovrebbe essere completato questo lavoro perché domani formalmente comincia la campagna elettorale, il primo febbraio è il primo giorno di campagna elettorale, anzi il primo febbraio sera, i decreti dovrebbero essere consegnati a tutte le liste, noi infatti il 2 faremo la nostra apertura a Cremona, ci vediamo a Cremona alle ore 21 per l'apertura ufficiale della campagna elettorale, saluto Emiliano Velasco, Giulio De Nicolais, Fabio Ferranti, candidato a Palermo, un abbraccio, allora noi dobbiamo fare questo, intanto mi piace alla diretta per difenderci dall'algoritmo e dagli attacchi dei nostri haters, poi mi raccomando il condividi, condividi sulla vostra pagina, fate seguire questa diretta a più persone possibili, invitate direttamente i vostri amici a seguirla, saluto Pina Moretti e chiedete a noi in Sardegna quando? Il 16 di febbraio sarò al T-Hotel di Cagliari, ovviamente con Alberto Agus, Donatella Lotà, la Governatori, la Garbognin, tutti i grandi amici della Sardegna, candidati per il popolo della famiglia, sarà una grandissima occasione di incontro, ci vediamo al T-Hotel di Cagliari il 16 di febbraio, saluto anche Emiliano Fumaneri, cioè Andrea Sofer, buongiorno a te, buongiorno ad Anna Scapin, allora centriamo alcuni punti, c'è uno dei spazi elettorali gratuiti che vengono offerti dalle tv locali attraverso il cosiddetto MAG della AG.com, potete produrre spot radiofonici o televisivi, andranno in onda sulle tv locali, se siete in grado di produrne da 15 secondi per gli spot radiofonici fino a 90 secondi per gli spot televisivi, fatelo pure e noi cercheremo di veicolarli tramite le tv locali. Non è facilissimo, però possiamo farcela grazie alla AG.com a fare questo lavoro. Giuseppe Becoraro mi chiede a Torino quando ci vieni, ci sono appena stato, ieri sera, abbiamo finito a mezzanotte, a Pinerolo, non a Torino in effetti. Poi, dice Barbara Giacovelli, mettiamo il simbolo e il pdf sui nostri profili, ovviamente per l'attività su Facebook è utile che ognuno trasformi la piopa e il fotoprofilo in un riferimento esplicito al simbolo del pdf. Vi ricordo che la campagna elettorale è sul simbolo, si vota avendo a disposizione una croce sola per ogni scheda elettorale camera, scheda senato, avete una sola croce, quella sola croce deve essere spesa facendo la croce sul simbolo del pdf. Giuseppe Becoraro dice Pinerolo non è Torino, ho capito, sono 30 km, io ho fatti 900 per arrivare a Pinerolo, potevi fare uno sforzetto Becoraro, se no te vengo a casa, faccio una campagna elettorale, vado a casa di tutti quelli che chiedono che ci sia una mia presenza. Qualche volta magari io ne faccio 900, tu ne fai 30, facciamo così. Allora, dicevo, il Corrado ha detto bellissima serata ieri vista in diretta quella di Pinerolo, quindi chi volete potete anche andare a recuperare la serata di Pinerolo nel filmato fatto dal pdf del Piemonte. Vi dicevo, avete questa opportunità, ci sono tante questioni che potete affrontare, ma la cosa fondamentale è far fare le croci sul simbolo, andare tutti i giorni, io lo ripeto, a incontrare 10 persone, 10, non di più, sono rimasti 31 giorni di campagna elettorale, tutti i giorni incontrate 10 persone, ma parlandoci, costruendo una relazione umana, non solo dando il volantino frettoloso durante la presenza al gazebo. Date un pezzo di voi nell'incontro, è una relazione umana che dovete essere, incontrate nei 10 e a quei 10 consegnate il testimone del dover fare una croce sul nostro simbolo alle elezioni. Subito dopo, a quei 10, dite di fare lo stesso lavoro con altri 10 e avete fatto, il lavoro è questo, stare assolutamente sul campo a incontrare le persone, non è il nostro microcosmo quello elettorale, non è quello che scrive la bussola, quello che dicono nelle chat, questo è il microcosmo, riguarda 10.000, 20.000 persone, è niente, è niente. La campagna elettorale si fa su 30 milioni di voti validi, 30 milioni, d'accordo? Quindi se tu prendi e fai la guerra per avere i cinque voti del tuo contesto facebookiano, dove si litiga su ogni virgola, non fai nulla, perché i voti sono fuori. L'incrocio con il consenso possibile per il popolo e la famiglia è l'incrocio con il mondo reale, non con il mondo irreale del nostro microcosmo, che lo ripeto, riguarda 10.000, forse 20.000 persone immerse in stupide polemiche, diatribe, che non servono a niente. Tutti i militanti, dirigenti e simpatizzanti del popolo e della famiglia devono andare a incontrare le persone fuori dal contesto. Incontratene 10 al giorno e a quei 10 consegnate il nostro simbolo con l'idea di fare una croce sul simbolo e dite a ognuno di loro di fare lo stesso lavoro con altri 10. Con questo metodo noi che non siamo coperti dai media, però stenderemo una coperta fatta di intense relazioni umane su tutta l'Italia e l'Italia ci conoscerà. è il nostro lavoro, fatelo, fatelo perché è necessario, è necessario in questo momento che ognuno di noi si senta responsabilizzato su questo compito. 10 persone da incontrare al giorno, fare una croce sul simbolo e popolo e la famiglia, convincerli a farla, convincerli a convincere il giorno stesso altre 10 persone a fare lo stesso. Se noi costruiamo questo tipo di percorso, ce la faremo a coprire, ripeto, con una coperta di intense relazioni umane tutta l'Italia e poi ci voterà chi vuole. Anacleto Sabbiadin mi dice cosa dici sulla relazione Commissione parlamentare sulle banche? Vedete quando vi dico che le connessioni contemporanee descrivono solo l'istante della nostra connessione, in realtà poi vengono in tanti, ieri 14.000 a seguire Stampevangelo. Per esempio Anacleto arriva dopo che ho parlato della Commissione Banche. La Commissione Banche, lo ripeto, è stato un luogo dell'inciucio, centrodestra, centrosinistra, ieri si è votato 19 a 15, 6 erano gli assenti, ma soprattutto il caso incredibile è la non ricandidatura del senatore del centrodestra Andrea Ugello, che ha avuto solo la colpa di far vedere i sorci verdi a Maria Elena Boschi come era giusto che fosse per via dei conflitti di interesse sul caso Banca Etruria. Ora, il fatto che Andrea Ugello abbia avuto questo comportamento, così netto e così chiaro in Commissione Banche, è valso a Andrea Ugello la cancellazione delle liste del centrodestra. Cos'altro vi serve per capire che se volete fermare il centrosinistra al governo dovete assolutamente solo votare popolo, della famiglia. Ogni altro voto è un voto a una coalizione ambigua, ormai disastrata sui valori. Leggete le cose ultime che dice Salvini. Votate la buongiorno capolista, ma siete matti? La buongiorno che vuole la legge Scalfarotto, la buongiorno che ha inneggiato la legge Cirinna, la buongiorno che stava a fianco della Bonino a Braccetto e voleva cancellare la legge 40 quando tutti noi ci battevamo per salvaguardarla? Ora, tutto potete chiederci, ma l'idea che poi sia vera questa storia della contaminazione, quando invece dopo tre minuti è evidente che si è già rimasti contaminati dalle logiche di partito, vi fa capire che l'unica strada vera per votare bene è votare popolo e la famiglia alle prossime elezioni. Non date retta, ho scritto 10 frequently asked questions, cioè le FAQ, in maniera che fosse chiaro che tipo di risposte dobbiamo dare ai nostri soliti amici che dicono, ah ma nei collegi nominali poi dopo voi perdete. Avete una sola possibilità, una croce, quindi con legge uninominale o plurinominale non c'è differenza perché non si può votare diversamente, si deve votare con una croce sul simbolo, con una croce sul simbolo, non c'è altra strada che il simbolo del popolo e la famiglia, altrimenti riportate in Parlamento Lupi, Lapolverini, Schifani, il ministro Costa, tutti i candidati col centotesta che hanno tradito le piazze dei femmini dei e votato per la legge Cirinna, votato per la legge Cirinna, riportate in Parlamento le ambiguità che hanno generato le leggi di divorzio breve e bio testamento, tutte con pochissimi voti contrari. Piera Giacometti dice calma che la voce parte un mese lungo, ha ragione Piera Giacometti, Don Francesco Colamonaco conferma che non c'è altra strada al voto al pdf, io non riesco a non appassionarmi amici miei, non posso far altro che dire quello che è evidente, che se volete fermare la stagione ormai pluriennale dei centrosinistra di governo dovete e potete solo votare popolo della famiglia, altrimenti voterete un centrodestra connivente, ambiguo sui valori, che non ha nulla di ciò che serve per fermare l'ondata delle leggi contro la vita e contro la famiglia, dunque non potete far altro che essere voi stessi e chiedere il voto per un programma netto, chiaro e sul simbolo. Mi raccomando, il lavoro operativo oggi è fare la croce sul simbolo, Enonora Pagano è stata invitata ad una tv locale di Mossina, accettare l'invito, certo accettare l'invito e ribadire le proposte del popolo della famiglia. Anche Bernarda Raucci ci chiedono, dice, ci chiedono di essere coinvolti per divulgare simbolo e programma, facciamo questo lavoro. Gianluca Francesca dice in tv non si parla mai del popolo della famiglia. Eh, abbiamo fatto un esposto alla G.com, ripeto, oggi a pagina 9 di Avvenire trovate il nostro esposto alla G.com. Verita Boddi dice, quello che dice è talmente chiaro che non si può non capire, ma io dico, guardate i giornali di oggi, guardate i giornali di oggi, apriteli e leggete, i giornali di oggi parlano di governo Lega 5 Stelle, se sono loro a prevalere. Oppure dell'inciucio centrodestra centrosinistra, che si è verificato anche in commissione banche, con il centrodestra che addirittura non ricandida il parlamentare che ha fatto piangere Maria Elena Boschi, non lo ricandida alle elezioni. Che serve più come prova per capire che il centrodestra è connivente con questo centrosinistra? Non volete più il centrosinistra al governo? Dovete votare. Popolo della famiglia, che fa saltare il gioco. Non siamo presenti nelle circoscrizioni estere, per chi chiedesse. Quindi i residenti all'estero, Aire, non possono votare, a meno che non siano residenti in Italia. Attenti, molti non fanno l'iscrizione all'Aire, sono all'estero ma restano iscritti in Italia, residenti in Italia e allora possono rientrare e votare nel loro comune di residenza. Quindi verificate sempre se quella persona che avete all'estero è un iscritto all'Aire, cioè residente all'estero, oppure in realtà è solo all'estero ma non ha fatto l'iscrizione all'Aire e quindi risulta residente in Italia. Dalla Sardegna è arrivata anche la splendida Maria Elisabetta Governatori, a cui confermo un'iniziativa del 16 febbraio al T-Hotel di Cagliari. Ricordo il 9 siamo a Perugia, il 2 siamo a Cremona per l'apertura della campagna elettorale. Monica Consigliari dice io non posso votare. In realtà puoi votare e non puoi votare per noi, diciamo, questo è il problema, a meno che non abbia tu la residenza in realtà ancora. In Italia Federico Pieroni dice ma la gente ha le squame negli occhi, la prova è che quando ci parli e spieghi le cose si svegliano. Oh Federico, quanto è importante questo tuo messaggio. Quando spieghi le cose e ci parli si svegliano, quindi cosa dico io sempre? Costruite relazioni umane, parlate oggi a dieci persone del popolo e della famiglia, invitateli a votare il nostro simbolo, fateglielo conoscere, fate conoscere il simbolo e dite che si vota con una sola croce possibile sulla scheda della Camera e sulla scheda del Senato, quella sola croce va impegnata per impedire il ritorno al governo del centrosinistra con l'eterno inciucio col centrodestra, di impedire una maggioranza avaloriale tra Lega e 5 Stelle e questo si fa solo votando popolo e della famiglia, ma costruendo una relazione con le persone che vi incontrano, perché altrimenti se date solo un volantino in maniera distratta non costruite nulla e buttate il volantino. Dovete costruire questo tipo di condizione, ieri Alessandro Cocco ha avuto 5 persone che voteranno popolo e della famiglia con una telefonata, insomma, vedete come si fa così, però dovete anche dire, una telefonata era un cenacolo, perfetto, dovete anche dire poi alle persone che motivate che a loro volta si devono fare motivatori, è questa la chiave, altrimenti i 5 poi rimangono esauriti là, loro stessi devono diventare motivatori e andare a parlare altri 5, altri 10, altri 20, ieri lavoreranno hanno fatti 15 la moglie di Nicola Di Matteo, ecco, con questo lavoro svolto in tutta Italia riuscirete a stendere questa coperta di intense relazioni umane che noi intendiamo fondamentale per raggiungere l'obiettivo del 3%, che ovviamente è il nostro obiettivo, ma tranquilli ragazzi, seppure facciamo il numero 5 o il 2, quello che già adesso i sondaggi ci danno, cioè 500.000, 600.000 cattolici che hanno votato per noi, persone di buona volontà che hanno votato per noi, non è straordinario, saremmo un movimento clamoroso di centinaia e centinaia di migliaia di persone, il 4 marzo noi muoviamo il primo passo, speriamo che sia un primo passo che porta non il 3%, il 10% con 70 parlamentari eletti, oppure che facciamo un primo passo con 500-600.000 persone che votano proprio la famiglia, 700.000 persone, ragazzi vi pare poco? Avremo comunque fatto la storia, il nostro solo problema ora è che noi rischiamo di essere appagati dalla raccolta firme e non essere attivi sulla parte del lavoro per strada, negli incontri, nei cenacoli, cioè trasformare tutta questa energia in voti, ricordatevi che noi siamo un partito politico, dunque il nostro core business è la raccolta del consenso, non la convegnistica, non gli intellettualismi, ma la raccolta del consenso presso il popolo, questo è il lavoro che ora dobbiamo fare, uno per uno, dobbiamo andare a prenderci in questo momento con i materiali che abbiamo, dopodiché nei prossimi giorni sono in stampa già i manifesti 100-140 e soprattutto i cartoncini, quelli piccoli, quelli da lasciare in mano, che dicono alla persona conservalo fino al 4 marzo, così il 4 marzo ti ricordi quello che hai da votare, ne stamperemo milioni di questi volantini piccolini, 8,5 per 5,5, ne stamperemo milioni, milioni di questi sono già in tipografia, arriveranno nei prossimi giorni e saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale tramite i coordinatori regionali, quindi noi spediamo al coordinatore regionale, non ci fate fare spedizioni provinciali perché ci costerebbe troppe troppe migliaia di euro, noi consegneremo ai delegati regionali, i delegati regionali poi potranno darli a tutte le realtà locali. Ripeto, per tesserarsi, visto che ce l'ha chiesto anche un'altra persona, www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora, ricordarsi che quella pagina è il nostro marketplace, ci si può anche abbonare al quotidiano La Croce, oggi il quotidiano La Croce è all'appello al voto di Gianfranco Amato, il nostro segretario nazionale, ogni giorno ci sono molte cose importanti da leggere, dunque un abbonamento alla Croce tra l'altro rafforza la nostra testata e quindi fatelo, potete anche iscrivervi al Popolo La Famiglia, sempre sullo stesso marketplace www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora, mi raccomando è importante perché se fate questo e vi iscrivete, magari fate l'iscrizione sostenitore non abbiamo qualche risorsa in più da impiegare nella campagna elettorale, quindi tesseratevi al movimento, fate tesserare le persone al movimento, magari da sostenitori, perché questo ci dà un minimo di ossigeno in più, visto che i costi già adesso sono stati tantissimi e altri ce ne saranno inevitabilmente. Date un po' di ossigeno anche da questo punto di vista, chi può faccia l'abbonamento, faccia la testa da sostenitore, dia una mano concreta a questo enorme sforzo. Ricordo a tutti l'attività che è quella di oggi di fare i 10, io ieri li ho fatti a Pinerolo, oggi me li farò a Roma, i 10 mi raccomando, i 10 da convincere a cui tutti e 10 consegnate poi il compito di convincere gli altri 10 e così via, con questo costruiremo questa rete, andiamo per strada, facciamo ciò che dobbiamo, ricordiamoci la pagina del Vangelo di oggi, Nemo profeta in patria, nessuno è profeta in patria, quindi scordiamoci il dibattito interno ai 10.000, 20.000 del nostro mondo, il DNF, Pilon, Gandolfini, la nuova bussola quotidiana, è un dibattito ozioso che non genera consensi, genera solo spreco di energie, ci perdiamo solo tempo, stiamo lì nelle chat a fare casino, è inutile, completamente inutile, oggi me la sono presa con uno che continua, insiste, non è uno, ce ne ho più di uno in una chat particolare che vengono a insultare il PDF da anonimi, continuamente, continuamente senza firmarsi, allora questa roba è assolutamente incredibile, non dobbiamo consentirlo, per favore non dobbiamo consentirlo, facciamo subito, io ho richiesto in quella chat che agli anonimi non si è consentito ulteriormente di dover prendere a insulti il popolo e la famiglia che è composto invece sempre da persone coraggiose che si firmano col nome e col cognome, chi sta lì con i nickname, mi dispiace, in questa fase non c'è tolleranza, chi sta con i nickname semplicemente ignoramolo, tutto questo lavoro lo faremo per andare avanti, per far crescere sempre più il popolo e la famiglia, non fiaccarci mai dal punto di vista morale e ricordarci che se non vogliamo un'altra stagione di centrosinistra di governo, se non vogliamo una stagione in cui ci sia ancora l'abbonino a dare la politica complessiva per fare uno shock sull'abbonino, per esempio, nel collegio dove è candidato l'abbonino si candida e si vota anche il presidente del popolo e la famiglia, cioè il sottoscritto, non è dovete fare la croce su Adinolfi, è dovete fare la croce sul simbolo del popolo e la famiglia, perché solo con quel simbolo l'abbonino avrà una lezione pesantissima, se votate il funzionario di partito che hanno messo lì, quelli del centrodestra, spacciandolo addirittura per fondatore del Family Day, e qui siamo un po' tutti dei Family Day, chiedendo a Nicola Di Matteo se quello era un fondatore dei Family Day, chiederlo a Gianfranco Amato, ma chiederlo anche a Costanza Emiliano, chiederlo a chi volete, per far davvero fare qualcosa di importante e serio, votate il simbolo del popolo e la famiglia, perché con quello spaventate Mabbonino. I nemici infatti, Paurelio Mancuso, la stessa Monica Cirinna, cosa dicono? Il centrodestra non c'è problema, Berlusconi ci copre, Berlusconi non farà mai toccare la legge Cirinna, quindi tranquilli, loro sono già complici, è già stato fatto infatti, le leggi sono state votate con la complicità degli eletti del centrodestra. Volete rompere questo equilibrio? Votate Popolo della Famiglia, non c'è alternativa a questo. Condividete questa diretta, vi prego, sulle vostre pagine Facebook, invitate le persone a seguirla, fate mi piace alla diretta stessa, lavoriamo sulla diffusione del nostro messaggio, non abbiamo i media, abbiamo questo nostro piccolo mezzo di comunicazione, la Popolo della Famiglia TV, usiamolo al meglio. Raffaella Greco mi dice, i 10 dove li porto? I 10 li porti a casa tua, fai un bel tè, ti incontri con i 10 in un bel tè a casa tua, gli offri il tè e gli offri anche il simbolo del popolo, della famiglia. È importante, davvero molto importante fare questo lavoro che noi chiamiamo Cenacolare. Bene, io vi ringrazio per la puntata di oggi e per l'attenzione, mi raccomando di condividerla su tutte le pagine. Da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti, ci troviamo domani con la puntata di Stampa e Vangelo. Da Maria di Nolfi buona giornata davvero.